Anticipazioni tempesta d'amore. Venerdì 12 giugno 2020. Franz e Tim riescono a vedersi e a parlare. Tuttavia un malinteso tra loro si rivela fatale. Linda viene colta di sorpresa dai progressi del suo ex marito e mette in chiaro che deve lasciarla in pace. Anche Christopher respinge il cognato precisando che non ne vuole più sapere di lui. L'uomo che cosa scogiterà per entrare nelle loro grazie? Il desiderio di Harry di sposarsi in abiti tradizionali non piace a Jessica che tenta di farglielo capire in tutti i modi. La giovane però scopre che il suo amato ci tiene molto e si mette in cerca con l'aiuto dei zombie Claire del vestito perfetto. Marianne si presenta senza preavviso a casa di suo figlio. Tra i due nasce una fortissima discussione. Il veterinario furibondo le dice a Chiare Letere che deve andarsene non figura nella lista degli invitati al suo matrimonio. Grazie a tutti.